Passiamo ora al volto, che sembra essere in assoluto l'elemento che le donne guardano maggiormente in un uomo. Alcuni studi dimostrano come l'avere un volto simmetrico predica un maggiore successo sessuale nel corso di tutta la vita. C'è poi un indice che esprime il rapporto tra l'altezza e la larghezza del volto, che anch'esso sembra essere molto correlato al successo maschile. Lo dico in termini molto semplici, chi ha un volto tendenzialmente più largo, sembra avere anche livelli di testosterone tendenzialmente più alti. Che alcuni studi, non tutti però, correlano a una maggiore aggressività, a una maggiore predisposizione a comportamenti antisociali e anche a un più alto rischio di violenza domestica. Questi stessi uomini tendono però ad avere anche un maggiore successo in ambito socio-economico e anche in ambito sessuale, in particolare per le relazioni di breve termine. Ma l'importanza data al volto maschile dalle donne sembra essere legato proprio al fatto che il volto è il veicolo del carattere dell'essere umano. In altre parole, ai nostri tratti fisici del volto...